Bevi qualcosa con me? Dai, fammi compagnia. Questa è l'ora del lupo. Le vado sempre in crisi. Se sono camè, portane due. Ho letto la scheda del tuo ragazzo. Opera San Donato. Che ci fai lì? Servizi sociali. Sei contento? Cos'hai combinato stavolta? Il solito vizio. Ho mandato uno all'ospedale. Solo che questo non era stronzo come te. Me lo potevo anche evitare di finire dentro. Davvero pensi ancora che io ti abbia fregato? Tutto sul mio conto. Tu non eri più un socio affidabile. Lo sai benissimo. Eri tu che aspettavi solo il momento giusto per farmi fuori. Comunque io ti sono anche riconoscente. La quarta stella la devo a te. Volevo dimostrare che era il migliore e ho stravinto. Adesso, se permetti, vorrei darti una mano. E come? Sentiamo. Il tuo ragazzo ha delle doti, ma non ha molte possibilità, questo è evidente. Per lui arrivare in finale sarebbe già un miracolo. Io, come presidente di giuria, posso mettere una buona parola con gli altri giudici, passerebbe anche come io. Un merito tuo, no? Il mio ragazzo se la può cavare anche da solo. Se lo dici tu. La mia era solo una dichiarazione di pace. La tua è carità non richiesta. Grazie per i mischi. È stato un piacere ritrovarti, uguale a sempre.